Venerdì 16 luglio. Buongiorno, ben trovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani il coronavirus, gli ultimi numeri, quelli dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale del Molise. Cardarelli covid free, dimesso infatti l'ultimo paziente ricoverato in malattie infettive, ma il contagio aumenta. 23 i nuovi positivi, 9 a Campobasso, 8 a Guionesi, 4 a Boiano, 2 a San Giovanni in Galdo. Tasso di positività che schizza al 5,8%, 3 guariti, 97 i casi attualmente positivi, 1942 i soggetti in isolamento. Ed ora parliamo della notte dei tamponi. Lo slogan scelto da Regione ed Asrem è tamponiamoci. Venerdì 23 luglio, dalle 21 alle 24 verranno iseguiti tamponi molecolari, fino ad un massimo di 300 prelievi per postazione. Le postazioni individuate sono il distretto di Termoli, in via del Molinello, il distretto di Campobasso, in via Petrella, l'ospedale veneziale di Isernia, con il drive-in in via Sant'Ippolito. Tutti i cittadini dai 18 anni in su, che vorranno sottoporsi allo screening, dovranno esibire la tessera sanitaria ed un documento di riconoscimento. Successivamente riceveranno il risultato del tampone molecolare effettuato la notte dei tamponi, venerdì 23 luglio, dalle 21 alle 24. Ed ora parliamo di turismo, perché c'è una buona notizia. Termoli raddoppia le presenze nel 2021. I dati sono forniti dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo, aumenta la presenza degli stranieri, raddoppia le presenze nel 2021, ma aumentano anche sulla base dei dati del 2019 pre-pandemia. Allora, tutti i particolari li ascoltiamo dal servizio. Raddoppiate le presenze di turisti a Termoli nei primi sei mesi del 2021 rispetto al 2020 e aumentate rispetto al 2019, prima della pandemia da Covid-19, che aveva fatto registrare all'epoca un buon risultato rispetto al 2018. Emerso dai dati rilevati dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo, il trend nel semestre gennaio-giugno 2021 ha continuato a salire annullando i riflessi negativi del virus che invece ha segnato il 2020. Il risultato complessivo in alberghi e strutture extra alberghiere, considerando i viaggiatori italiani e stranieri, si attesta a 41.172 presenze. Nello stesso periodo del 2020 le presenze sono state 21.312, mentre nell'estate 2019, prima dell'ondata pandemica, furono 40.853. L'aumento si rileva già a partire dalla primavera di quest'anno, da aprile 2021, a conclusione del lockdown, con il più 1.248% negli arrivi complessivi, alberghi e residenze con case vacanze, i B&B e il più 560% nelle presenze. A maggio gli arrivi totali italiani e stranieri nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere sono più 477% e le presenze più 231%. A giugno il dato complessivo italiani e stranieri in alberghi e non rileva un più 84,3% negli arrivi e un più 115% nelle presenze. Gli italiani che hanno soggiornato sono più 81,1% negli arrivi e più 108,7% nelle presenze. Gli stranieri invece sono in netta crescita. Termoli è divenuta una meta da raggiungere e visitare, dichiara Remo Di Giandomenico, commissario straordinario dell'Ast. Ora bisogna fare in modo che i servizi e le attività migliorino, ognuno faccia la propria parte. I quotidiani, primo piano molise, neonato morto dopo il parto, martedì l'autopsia. Indagati 5 medici del Santimoteo, sequestrati la cartella clinica e gli atti necessari a fare chiarezza sul decesso del bimbo, avvenuto a più di due ore dalla nascita l'inchiesta a carico dei sanitari. È un atto dovuto, continua a far discutere a Termoli la sospensione delle attività ostetriche. Pronti i ricorsi al Tar. Effetto Delta, 23 nuovi casi, ma il Cardarelli si svuota. Altri 8 contagi a Guionesi, 9 a Campobasso. Il tasso schizza al 5,8% di messo l'ultimo paziente dall'ospedale Campobassano. In Parlamento, aree interne, Federico prova ad evitare il furto dei fondi. A proposito di fondi c'è il punto del direttore Luca Colella, PNRR, governo ladro, il nord scippa fondi al sud. Mentre la bella notizia è quella che riguarda il turismo, impennata di presenze, termoli meglio del pre-pandemia, raddoppiati i dati del 2020, superati quelli del 2019, boom di stranieri da gennaio a giugno. A Campobasso, spazio all'aperto per la cultura, il Comune chiede Dazio ed è subito polemica. Mentre di spalla c'è lo screening di massa. Ecco la notte dei tamponi, 900 test gratis dalle 21 alle 24 di venerdì 23 luglio. Dentro la notizia, San Martino inferno di fuoco in paese, fondati i sospetti, l'incendio è doluso, fermati due piromani. A Isernia, tir in sorpasso, travolge monovolume sulla tre, miracolata la famiglia molisana a bordo. In taglio alto ci sono i richiami di sport. Campobasso, ingaggiato il giovane portiere Zamarion, arriva in prestito dal Gubbio. Il vasto Girardi, conferma anche Minchillo. Dopo Ruggeri, il DG Crudele si riparte dallo zoccolo duro. E poi il basket, Magnolia, colpo argentino, firma la Play, guardia Chagas. Ci spostiamo sui quotidiani nazionali, i quotidiani scelgono tutti aperture diverse, a dimostrazione che sono tanti i temi importanti da trattare, che hanno portato così i direttori delle testate a fare delle scelte ben precise. Il messaggero punta su Alitalia, che cambia nome e riparte via libera dell'Unione Europea. ITA decolla a ottobre con 52 aerei, si chiama così. ITA low cost all'assalto degli slot di Linate. Emergenza lavoro, decreto per TFR e CIG alle imprese in crisi con più di mille dipendenti. Il messaggero si occupa anche delle evoluzioni interne al Movimento 5 Stelle. tra Grillo e Conte scoppia la pace, comincia l'offensiva sulla giustizia. Il patto del Vermentino, siglato in una trattoria di Bibona davanti, evidentemente a un buon bicchiere di vino. Contagi in vacanza, allarme farnesina, rischi all'estero. E poi c'è questa notizia che spiega più di ogni altra parola. L'estate nera delle alluvioni, effetti del maltempo a Dagen nell'ovest della Germania. Germania travolta dal fango, decine di morti. La Merkel è sconvolta. Il Corriere della Sera, l'apertura invece è sul Green Pass. Un decreto per il documento, scuola tutti gli studenti in classe a settembre, ipotesi, lascia passare per i prof, piano del governo, entro fine luglio obbligo di doppia dose o tampone per discoteche e eventi trasporti. C'è il dossier, nuovi ricoverati, 9 su 10 senza le due dosi e da qui deriva l'importanza, si capisce l'importanza del vaccino. C'è la vignetta di Giannelli con uno dei virologi più importanti che dice non vorrei che il Covid volesse fare i supplementari. Di spalla Conte Grillo è pace fatta con la prova fotografica in taglio centrale, alluvioni, paesi devastati. La Germania è sotto shock, ondata improvvisa. Abbiamo perso tutte le parole di Angela Merkel, oltre 50 vittime e decine di dispersi. La Merkel si dice sconvolta. Ci spostiamo ora sulla Repubblica che apre proprio con la strage del clima. Eccolo qui, il titolo di apertura di Repubblica. La distruzione e l'inondazione dopo l'alluvione che ha colpito Schuld nell'ovest della Germania. Guardate questo scatto, ondata di maltempo, devasta Germania e Belgio. Almeno 67 morti e centinaia di dispersi per le alluvioni. Merkel sotto shock. È una catastrofe. Gli esperti, eventi estremi causati dal riscaldamento globale. Green Deal europeo, tutti contro tutti, sulla rivoluzione energetica. Non si riesce a trovare la sintesi. Il retroscena di Claudio Tito proprio sul Green Deal. Quel patto tra Parigi e Roma. E poi il commento di Dassu perché il verde non sarà indolore. Di spalla Conte Grillo, pace a tavola. Sulla giustizia non molliamo. C'è questa notizia che riguarda Draghi. Record fiducia al 74%. E poi Mara Carfagna. Virus sì al pass, ma non per bar e ristoranti. Anche qui la trattativa è ancora in corso. Ed ancora, infine, le reportage. Tokyo, la città riluttante alle Olimpiadi. Una riproduzione gigantesca della medaglia d'oro. Giappone che ha pensato molto sull'opportunità di far disputare le Olimpiadi in questo momento. Di ospitare le Olimpiadi in questo momento particolare. Chiudiamo con il fatto quotidiano. In taglio centrale, carcere abolito. Titolo forte del fatto, diretto da Marco Travaglio. Cartabia libera tutti fino a sei anni di pena. Vogliono ancora più misure alternative. Il salvaladri bis. Processi nulli con la messa in prova per condanne anche gravissime. Palermo, la Corte d'Appello, impunità garantita. In taglio alto si parla di ambiente. Ministero, azienda con Cingolani ed Ernest e Young. Transizione poco ecologica. Riforma scritta dai privati. Ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore che sceglie come apertura la nuova Alitalia che, dice, parte più leggera. Trasporto aereo nell'accordo con Bruxelles. 2.800 assunti il primo anno. E 52 velivoli come flotta messi in gara i servizi a terra e il marchio. I sindacati protestano e dicono che è inaccettabile. Transizione ecologica. Tempi lunghi e ostacoli sulla strada dell'Europa. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, con la Rosa, con le notizie sportive. e con CR7 che ha voglia di tornare ad allenarsi. Ci chiediamo se avrà mai smesso arrivo e arresto. Dice messaggio alla Juve. Torna per vincere. Cristiano è impaziente di riprendere ad allenarsi. Appunto, il suo agente Mendesch parlerà con Agnelli su un possibile rinnovo fino al 2023. Magari spalmando l'ingaggio. Si parla di Juve ma si parla anche di Inter con l'idea Nandes. L'Inter sull'uruguaiano, Alcaiari in cambio andrebbero Nainggolan e Agumet. E si parla anche di Milan perché c'è un rinforzo importante. I rossoneri si aggiudicano Giroud. Oggi test medici e firma. Milan avanti su Caio Horge. E' preso anche Ballo Turei che è un difensore molto interessante. Poi c'è Montella che fa le carte al campionato. Spalletti top. Mou farà bene. E' tutto. Ora il palinsesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? Alle 11 c'è Molise Sport. Alle 14 l'informazione troverete proprio a me. Alle 16 ancora Molise Sport. 17.30 Paese Mio. 19.30 l'informazione. 21.00. Conto alla rovescia una trasmissione, una replica delle tante trasmissioni andate in onda durante quest'anno. Molto impegnativo per tutti noi. Alle 23.00 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro notizio.